E allora raccomando a tutti gli operatori presenti in aula, il test ha fatto sapere che non intende assolutamente essere ripreso. Lei era stato originariamente citato come testimone in questo processo, poi è emerso un fatto processuale, cioè che lei risulta indagato per reati probatoriamente collegati a quelli per cui qui si procede e anche ai fatti su cui lei appunto dovrebbe deporre. A lei la parola intende avvalersi della facoltà di non rispondere? Sì, signor Presidente, io su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere.